Per la prossima estate fanesi e turisti rischiano di non poter prendere nemmeno un caffè seduti comodamente ad un tavolo del centro storico, ma per saperne di più lo chiamo al consigliere comunale di progetto Fano Aramis Garbatini. Che cosa sta succedendo? Salve, sta succedendo che arriva l'estate e come è normale i commercianti chiedono l'occupazione del suolo pubblico per poter svolgere l'attività nel periodo estivo, solamente che presentando la domanda alla sovrintendenza, la sovrintendenza ha dovuto rispondere per forza in modo negativo perché il comune di Fano non ha presentato il regolamento per l'area d'urbano del centro storico, che era stato comunque richiesto dalla sovrintendenza protocollando la richiesta specificatamente nel mese di febbraio e il comune di Fano non ha rispettato questa scadenza. Oggi ci troviamo in una situazione in cui gli operatori si vedono non poter operare nel periodo estivo, nella loro attività, nelle piazze e comunque negli spazi pubblici. D'altra parte l'assessore alla cultura e al turismo Stefano Marchegiani assicura che stanno lavorando sul regolamento e che si farà di tutto per sistemare le pratiche il prima possibile. Gli esercenti hanno un motivo di preoccuparsi? No, io penso di no perché Fano si sta dotando di un regolamento che mancava, noi mercoledì a ritorno da questa breve pausa pasquale vedremo le ultime cose, ci siamo ispirati a regolamenti in vigore già nei centri storici delle Marche, quindi con il buon senso di alcune scelte e le buone pratiche. Io credo che questo sarà una cornice dentro la quale tutti potranno trovare la guida per scegliere gli arredi e le sistemazioni che la sua intendenza chiede, quindi un nuovo rapporto con la sua intendenza, meno confiutale del passato. Avremmo preferito fare un pochino prima ma ci vuole sempre tempo per fare i regolamenti e quindi adesso cerchiamo di accelerare in modo tale che prima possibile queste pratiche si possano riattivare. Grazie